ciao allora oggi vi voglio mostrare tutti gli acquisti che ho fatto da wish nell'ultimo periodo tutti quanti a un euro perché come sempre io li metto nelle liste desideri aspetto che vada in promozione e così pago solo la spedizione quindi ve li mostro subito guardiamo un attimo che cosa ho preso vi mostro questo che è un auricolare anche carino che copia in tutto per tutto quelli dell'iphone questo è universale bluetooth eccolo qua con il tasto d'accensione si carica con il jack che il cavetto comunque l'ho già perso però comunque sia in dotazione si sente bene ha un buon audio si accoppia bene con qualunque bluetooth è leggerissimo quindi anche comodo ed ovviamente l'ho pagato un euro quindi c'è è perfetto dunque sempre wish un euro queste spugnettine che sono per me carinissime sono piccine però sono morbide poi un euro di sei c'è questa questa classica a ovetto questa tagliata quindi ha preso proprio le forme di tutte quelle famose questa che è piccolissima è carina ecco per il correttore però è molto carina e le classiche a ovetto due sempre per il correttore e mi sembrano carine sei spugnette a un euro sono carine altra cosa da wish sempre a un euro questo era la cassa non mi sembrava ad averlo preso ma ma allora scherzi a parte questi qua che sono carinissimi e sono dagli aggeggini per spremere i ad esempio i flacconi di detersivo di ventifricio oppure per spremere insomma per farli arrivare fino in fondo e mi sembrano carinissimi che poi funzionino no ma comunque sia c'è sono carini carinissimi proprio eccoli qua questi li provo subito erano a un euro tutti e cinque e tu invece tu quanto costavi sempre da wish anche tu ma non lo so l'ho trovato nel pacco si vede che non mi ricordavo da viaggiò alla cassa questo altro prodotto che vi mostro è questo che allora intanto è un sos in teoria femminile e da mettere in borsa che strappando la cordicella qui staccandola c'è un pernetto fa un rumore assordante sarebbe quindi adatto per le persone che si spostano da sole io l'ho usato non tanto per muovermi in città ma per quando vado nei campi alla sera oppure colendroniere che non ho il rischio di scippo o altro però mi sono trovata varie volte con delle volpi e non so come fare perché mi guardano gli sparo la luce in faccia e il teoria scappano ma ho pensato che portandomi questo fa un rumore davvero assordante dovrebbero scappare perché caprioli non mi danno a fare i cinghiari li lascio stare e loro non mi guardano e volpi ancora qualche problema quindi a un euro vediamo comunque mi è sembrato anche piccolino e compatto da mettere in tasca abbastanza utile non ve lo accendo perché fa un rumore assordante e ve lo mostro proprio sono questi guantini a mezzo dito sono fatti così sono belli morbidi anche e alla fine coprono solamente la mano vedete un pochino il polso li ho trovati comodi quando sono al computer perché ho tendenzialmente freddo se non c'è riscaldamento non c'è se non c'è il cammino tendenzialmente freddo quindi con questo ho le mani libere per schiacciare i tasti e comunque è abbastanza caldo e bello morbido anche questo a un euro mi è sembrata eccolo qui mi è sembrata una cosa comoda ho notato che con queste luci sembro lucida quando invece non lo sono ma va bene così dunque questi erano tutti gli acquistini del periodo perché li prendo ad agosto e arrivano adesso comunque con calma fatemi sapere se qualcuno di questi prodotti vi è piaciuto vi è incuriosito e nel mentre anche se vi ho tenuto compagnia se vi è piaciuto il video mettetemi un like iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video ciao